Luigi Impagnatiello, sono originario del Gargano, ho studiato a Bologna dove mi sono laureato in economia e commercio, successivamente alla laurea ho fatto un master in finanza e controllo di gestione e subito dopo ho iniziato a lavorare come responsabile amministrativo in una piccola azienda nel settore delle macchine confezionatrici. Da lì in poi ho intrapreso una carriera diversa sempre nell'ambito dell'area amministrazione finanza e controllo dove ho ricoperto ruoli sempre più crescenti in quest'area, in particolare ho lavorato per due multinazionali, tutte queste esperienze mi hanno dato la possibilità di diventare un manager a 360 gradi specializzato nella parte finanziaria e controllo di gestione. Dal primo di ottobre dell'anno scorso mi sono unito al team di Palletways, in particolare a Massimiliano Perez che è l'amministratore delegato, per supportare Massimiliano e tutto il team e anche il gruppo, la capogruppo, a trasformare Palletways in una società più managerializzata. Questo primo anno di esperienza in Palletways per me è stato molto importante perché insieme alle persone del mio team abbiamo lavorato e stiamo lavorando duro per cercare di portare a portare a termine un processo di trasformazione che per noi è molto importante. Sicuramente lavorare per Palletways per me è stata un'esperienza molto importante in questo in quest'ultimo anno che mi ha dato la possibilità di raccogliere tante sfide perché ogni giorno c'è sempre qualcosa da fare di diverso, le priorità cambiano tutti i giorni. Inoltre da non sottovalutare la solidità del gruppo Palletways appartenente alla multinazionale Imperial Logistics perché ha permesso alla società stessa in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, che abbiamo attraversato nel periodo del lockdown, di non attingere alla cassa integrazione. Abbiamo tamponato con qualche giorno di ferie, un po' di smart working e devo dire che questo è molto importante e sono poche le aziende che si sono permessi questo lusso. D'altra parte nonostante Palletways stessa sia stata impattata in maniera importante nei mesi centrali del lockdown dal calo del fatturato conseguente alla chiusura. Palletways ha trovato le risorse finanziarie per aiutare i concessionari nel superare, attraversare questo periodo pensando a delle promozioni commerciali che andassero proprio in quella direzione. Grazie 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 Grazie